Ciao a tutte ragazze, allora video sulla Glossy Box del mese mi è arrivato un pochettino in ritardo quindi vi dico già che comunque ho avuto qualche ritardino e parlo ancora dell'estate anche se comunque l'estate sta praticamente finendo adesso vi faccio vedere la Glossy Box ce l'ho qui allora, la scatolina è sempre uguale quindi l'unica che era differente era quella di luglio ed è così e adesso vi faccio vedere i prodotti che ho trovato dentro allora, anzitutto questa volta erano un po' tipo uno l'ho trovato un po' aperto infatti ha perso molto e quindi nulla adesso vi faccio vedere tutti i prodotti allora, sì, ho ancora perso un pochettino il prodotto a camiseria allora, questa è sempre sun kissed quindi praticamente è quella di agosto non quella di settembre adesso vi dico, c'è un sacco di sole infatti sto morendo di caldo come vedete sono ancora monica e corta e c'è veramente caldo oggi il primo prodotto è uno spray per il viso a base di lavanda ed esserti infrescanti di menta che aiuta a ridratare la pelle stressata e ristabilire il naturale equilibrio alta ad ogni tipo di pelle da quelle normali a quelle più secche a quelle più sensibili è un vero must per l'estate da portare sempre in borsetta per giornate in spiaggia in città, in ufficio, in viaggio e in aereo allora, questa è la bottiglietta mi piace molto il flacone perché è abbastanza capiente cioè molto grande ed è esattamente a 100 ml adesso lo vedete che è un pochettino sporco perché è sporco dell'altro prodotto che ho trovato che sta perdendo tutto e non capisco perché deve esserci un buon, non lo so è anche sigillato e tutto però sta perdendo poi vi dirò che cos'è e quindi è così adesso sentiamo anche l'odore la profumazione e questo praticamente viene 6,90 euro questa confezione è da 100 ml allora è uno spray per il viso allora il sapore tra menta e lavanda si sente molto di più la lavanda che a me sinceramente piace molto quindi per il viso sinceramente va benissimo quindi questo qui lo userò molto volentieri poi secondo prodotto allora la brasse che è screpolata è questo balsamo è la soluzione ideale per riacquistare un sorriso perfetto grazie su ingredienti semplici e naturali può essere applicato senza problemi più volte al giorno su ogni tipo di pelle lasciati conquistare dal suo profumo la ciliegia che regala un utilizzo di otto co di colore alle tue labbra 5,90 euro la confezione è da 12.5 che è questa qui allora questo è l'altro prodotto come vedrete che lo apriamo eccolo qua quindi vediamo subito il colore ragazzi è molto molto sul rosa acceso sembra più fucsia allora sa molto di ciliegia come hanno detto me lo provo anche con le dita qui quindi un attimo guardate che è il colore io comunque ce l'ho sopra già un colore tipo ciliegia quindi lo risalta anche di più sinceramente perfisco metterlo con le dita e ha anche un buon profumo una buona profumazione ecco qua guardate che bello mi piace molto questo aspettate che mi pulisco perché sono da sporca tra l'altro non so se lo notate ma sembra che ho le labbra anche più grosse quindi da anche volume alla labbra poi quindi questo qui mi piace per il momento poi vi dico magari usandolo più volte come mi trovo però mi piace molto poi andiamo avanti allora questo ombretto in polvere regala un look classico e luminoso delicato con una serie di colori del fascino intramontabile che non passa mai di moda scoprino la loro elegante confezione come ombretti mi 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 diventeranno il protagonista del beauty case del tuo beauty case allora questo è la taglia 3g abbiamo 6,40€ allora è questo ed è un colore nero nero completamente in polvere ed è questo che mi sta dando tutti questi diciamo problemi e vedete che comunque è sigillato con lo scotch però sta perdendo un sacco di brillantini guardate e poi sta perdendo tutto quindi non lo so io poi lo proverò con calma e vi dirò come mi sono trovata proprio il momento mi sta macchiendo tutto poi andiamo avanti una matita elegante e versatile che può essere utilizzata come eyeliner dal tocco preciso o come ombretto morbido e luminoso divertiti a creare ogni giorno un make up tutto nuovo giocando con le linee di tratti più o meno sottili e mescolando i colori perfetti da sfumare allora questa è da 2,8g eccola qua qui la fa vedere con il color nero però il mio è un prugna questo qua quanto è la capienza fammi vedere un po' ta 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 sì è quella quella normale costa 13,80€ quindi questa qui la apriamo con voi come vedete c'è ancora la plastichetta allora vediamola matita eyeliner abbiamo detto è molto morbida ragazze e ha questo colore qua che si è un po' colore prugna io sinceramente non sono fan del colore prugna comunque vi dirò un po' come mi trovo la proverò bene come eyeliner e magari vi posterò anche qualche foto e niente poi vi dirò poi ultimo prodotto piccoli pasticci con il make up questa matita è perfetta per rimuovere l'eccesso di trucco intorno agli occhiali e labbra per correggere velocemente le imperfezioni che è così facile commettere quando ci trucchiamo di corsa la penna contiene uno struccante liquido senza profumo che agisce rapidamente senza seccare la pelle allora questa è tagliata piena e costa 4 euro guardate che bello praticamente c'ha le cose ricaricabili e serve praticamente l'avete capito quando magari usiamo l'eyeliner che sia in penna o che sia l'eyeliner liquido e facciamo dei pasticci basta usare questo correttore in penna che è bellissimo quindi lo proverò e vi dirò che cosa ne penso allora scusate per il video un po' di fretta ma sono assolutamente di fretta oggi e vi mando un bacione ci sentiamo nel prossimo video e bacione a tutte ragazze mua grazie a tutti